pace e bene a tutti ecco ringraziamo proprio gesù in questo giorno speciale siamo nel settimo giorno della novena e è un cammino molto particolare quello che stiamo facendo proprio con la mamma celeste doniamo tutto a lei doniamo le gioie doniamo i dolori doniamo anche quello che non capiamo perché prego così tanto e sembra che non vengo ascoltato non lo capisci lo so ma donalo non ti preoccupare non hai a che fare con un orco hai a che fare con un papà celeste e se anche una cosa non la comprendi fidati san giovanni paolo ii nell'incilica sulla sofferenza dice una cosa incredibile dice certe sofferenze le capiremo soltanto in paradiso dobbiamo avere proprio la serenità e l'umiltà di dire io non ho a che fare con un orco con una persona cattiva ma ho a che fare con un papà con un papà celeste che è infinitamente buono e quindi anche se non capisco mi devo fidare perché lui capisce lui che così buono capisce e se lui che così buono capisce sicuramente tutto questo servirà per il bene anche se io non lo capisco allora oggi vogliamo proprio donare a volte ci sono ci sono veramente sofferenze che schiacciano proprio che sembra proprio che logurano il corpo logurano la psiche e sembra veramente che abbattano la persona allora queste sofferenze sono come un coltello piantato in una gamba che sembra che nessuno riesce a sfilare sembra che veramente se qualcuno interviene si muore di sanguati invece vi do una bella notizia se noi questo coltello diciamo madonna mia lo metto nelle tue mani questo dolore quel coltello invece di diventare un coltello che ti abbatterà la madonna lo prenderà per il manico lo sfilerà e lo trasformerà il risurrezione a noi non ci può abbattere niente nessun dolore nessun male perché noi possiamo donare possiamo offrire le sofferenze di solito distruccano quando uno ce l'ha addosso e non riesce a togliersene in qualche modo ma noi questo problema non ce l'abbiamo perché noi abbiamo le mani a cui donare queste sofferenze non ce le dobbiamo tenere addosso noi anche se le continuiamo a sentire ma il peso enorme di queste sofferenze lo mettiamo nelle mani di maria così noi sentiamo il dolore magari per un po' fino a quando la non ci libera ma il peso di questo dolore lo porta lei così non ci schiaccerà alla quale il segreto io ho un dolore il peso di schiaccierebbe ma io il peso lo do a maria donando le sofferenze quindi lei porta il peso porta la croce con me così la sofferenza dato che lei ne porta il peso il peso più grande non mi schiaccia è un certo punto con lei la sofferenza si trasformerà in resurrezione invece quando le sofferenze non si donano a dio a maria il peso lo sentiamo tutto addosso a noi e il peso può schiacciare ecco perché poi si possono veramente le sofferenze possono portare a cose bruttissime perché quando una persona gli sembra che c'è tutto addosso e non c'è più via di uscita invece no noi abbiamo la via di uscita gesù dice io sono la via se anche tu ti trovassi dentro una buca piena di melma piena di schifezze che sembra che ti stai affogare in tutto questo male se tu dici gesù dono tutto a te dentro quella melma non sarei più solo gesù scenderà in quegli inferi come gesù è sceso agli inferi scenderà in quel tuo dolore il peso lo prenderà su di sé insieme con te in maniera tale che non ti schiaccerà più ecco perché san paolo dice siamo provati ma non schiacciati questo è il segreto soffrire con gesù significa essere provati sì ma non si viene mai schiacciati perché la croce la porta gesù sulle spalle gesù non lo può non lo può abbattere nessuno e se cade si rialza come nella via croces quindi stai tranquillo non avere paura di questo dolore che stai vivendo non ti schiaccerà perché non sei solo gesù lo porta sulle le sue spalle tu sei il secondo a portarlo ma il primo è lui tutto il peso se tu ti immagini la croce la croce sta con la sua base sulle spalle di gesù tu ne porti soltanto un riverbero ma il peso lo porta lui altrimenti tu saresti schiacciato quindi oggi doniamo tutto quanto a gesù in questo settimo giorno di novena non ci teniamo niente per noi doniamo le gioie ma doniamo anche tutti i dolori anche quelli che durano da tanto tempo anche quelli che non comprendiamo anche quelli che ci mettono addirittura non sei solo se anche tu non capisci lo spirito santo capisce lui ti darà la via di uscita da questo dolore anche se tu ti sembra che non ce la fai ci sono le spalle di gesù che portano quindi non sei solo questa sofferenza qualunque sia non ti schiaccerà ma gesù la porterà con te per te fino a quando attraverso lui si trasformerà in lode in resurrezione in benedizione oggi leggo questo messaggio preso e dal dal secondo volume è il numero 41 e il messaggio di mercoledì primo ottobre del 1969 ne prendo soltanto una parte sentite sentite la madonna che che luci che da sentite bisogna amare anche quelli che sono strumenti della sofferenza quanti quanti strumenti non è difficile trovare strumenti che fanno soffrire è difficile trovare strumenti che accettano la sofferenza ma per fare soffrire sono tutti buoni o figli miei come sono contenta quando trovo quelli che danno la mano a chi soffre e viene sollevato quel cuore che nella sofferenza sentite la madonna è contenta quando si trova qualcuno come il buon samaritano che ha visto quell'uomo mezzo morto e ferito ha provato con passione si è preoccupato di sollevarlo di soccorre di aiutarlo continuo come fui contenta per quello che si pose la croce sulle spalle quasi si riferisce quando gesù portava la croce e arrivò il cireneo che prese la croce di gesù e si la mise sulle sue spalle e la madonna dice come fui contenta per quello che si posse la croce sulle spalle cioè il cireneo così sono contenta quando per voi c'è chi vi aiuta a portare la croce voi figli amatevi fatevi compagnia non lasciatevi soli nelle sofferenze è questo che vuole il dio voi che siete stati scelti che siete qui riuniti fate che nei vostri cuori vi sia sempre questa unione come in questo momento cercate di sapere tra voi chi ha bisogno chi ha bisogno di che cosa tu hai bisogno bisogno bisogna dare a chi ha bisogno e di che cosa ha bisogno bisogna dare a chi ha bisogno e di che cosa ha bisogno se questo bisogno si può soccorrere bisogna farlo qualunque sia il bisogno tutto si può soccorrere con l'amore si può tutto figli miei ecco questa è veramente una meraviglia oggi san paolo direbbe portate i pesi gli uni degli altri a volte i pesi diventano così insopportabili non soltanto perché non sappiamo che gesù li porta con noi quindi non siamo soli e già questa è una consolazione ci dà la forza di portarli ma è perché non si trova nessun essere umano a volte che spinto veramente dalla carità ti soccorre questo è un mondo dove a volte se una persona fa successo allora si fa come come gli animali che sentono il dolce quando c'è un successo quando c'è una riuscita tutti quanti si avvicinano al dolce ma quando si vede una persona soffrire praticamente a volte non si ha la carità di dire qual è il tuo bisogno di cosa è bisogno vedete qui la madonna non dice che bisogna ammazzarsi dice bisogna se questo bisogno si può soccorrere oggi vi dico una cosa importantissima che dice papà francesco lui dice dio non ci chiede di fare tutto il bene che esiste ma ci chiede di volta in volta di fare tutto il bene possibile in quella circostanza allora a volte l'aiuto che tu puoi dare a una persona è semplicemente magari una telefonata un messaggio scritto prego per te oppure ho saputo che la madonna qui dice vedete che dice dice addirittura cercate di sapere fra voi chi ha bisogno chi ha bisogno di che cosa ho bisogno cioè addirittura dice di che per esempio se io sto io abito in un palazzo no ecco se io improvvisamente che ne so sento parlare delle persone sento che una persona sta nel bisogno ma qual è la caratteristica del cristiano il cristiano si dice proprio dio ama chi dona con gioia no il cristiano quando sente una persona che ha bisogno non importa di che regione non importa di che partito è non importa importa che sia un essere umano e quindi gesù ha dato il sangue per lui san francesco di sal dice la carità ci spinge a cercare di sollevare il prossimo in tutti i bisogni spirituali anche materiali quando una persona è cristiana la si aiuta perché è cristiana quando non è cristiana ma si aiuta sperando che dio gli faccia anche la grazia di diventare cristiana cioè di conoscere amare gesù ma comunque il motivo è sempre gesù per donare comunque gesù ha dato sempre il sangue per quella persona allora vedete la madonna ci dice di fare il bene possibile se a volte una persona ci dirà che ha un bisogno che noi sappiamo che non c'è possibile soccorrere in pienezza ma a volte gesù non ti chiede di soccorrere economicamente quel bisogno magari tu puoi dire guarda io purtroppo non ti posso veramente aiutare però gesù ha detto che se due persone si accordano per chiedere una grazia la ottengono io oggi chiederò che il signore susciti qualche cuore che ti aiuti anche economicamente cosa che io purtroppo non posso fare non ho proprio la possibilità padre pio diceva dio apre i cuori ma apre pure i portafogli allora ecco non ti preoccupare di voler fare tutto per ogni circostanza tu fai tutto il bene possibile l'esempio ce l'abbiamo proprio in questi giorni quando gesù parla della moltiplicazione dei panni e dei pesci gesù dice quanti panni avete e davanti a tutta quella folla c'erano soltanto cinque panni e due pesci ecco quel ragazzo ha messo quello che poteva cinque panni e due pesci dio l'ha benedetto l'ha moltiplicato e alla fine hanno tutti mangiato e sono avanzate pure le ceste così tu in ogni circostanza metti i cinque panni e due pesci che puoi e dio poi ti benedirà del tuo gesto di carità e lo moltiplicherà al punto tale che le persone andranno via saziate un giorno te li incontrano e ti dicono ma lo sai che tu mi avevi detto che pregavi per questa cosa è successo che mi sono ricordato di quella persona ho incontrato una persona ma alla fine il signore mi ha soccorso quindi ogni volta che si apre è una porta per cui noi possiamo fare un bene non chiudiamola dio ci chiede il bene possibile perché l'impossibile lo fa solo lui però quel poco anche se ti sembra poco tu seminalo tu seminerai cinque panni e due pesci tu seminerai cinque panni e due pesci tu seminerai solo cinque panni e due pesci e dio farà venire fuori un raccolto meraviglioso come se avessi seminato una marea di pesci e di panni perché dio guarda l'amore con cui tu fai le cose dio le benedizioni le dà in proporzione dell'amore con cui fa le cose non te quanto dai io posso dare pure un miliardo una persona ma se lo do con una piccola oncia di carità davanti a dio vale come se avessi dato cinque euro se invece vi ricordate la povera vedova aveva dato soltanto due monete nel tempio gli altri davano tutti di più ma gesù ha detto lei però ha dato tutto quello che poteva ha dato proprio con un amore infinito infatti davanti a dio quei due denari della vedova valevano come otto miliardi degli altri allora ecco e questo è veramente importante oggi la madonna ci rivela due cose sapere che non siamo soli nel dolore che il dolore come un coltello infilato nella carne ma se noi lo doniamo a gesù gesù sfila quel cortello e invece di ucciderci quel cortello la sofferenza ci fortificherà insieme con gesù e dopo ne usciremo risorti la scrittura dice dio veglierà su di te quando entri e quando esci cioè dio veglia su di te quando entri nella sofferenza e veglia su di te quando esci dalla sofferenza cioè veglia per farti usci dalla sofferenza per farti risorgere e se dio veglia come avegliato su israele per farlo uscire dall'egitto così sta vegliendo per farti uscire da questo dolore quindi il dolore non ti schiaccerà anzi tu ci passerai in mezzo al dolore dirai come hanno detto le israele sono passato nel deserto i miei sandali non ci sono consumati e il mio vestito non si è rovinato così dio ti farà passare in questo dolore e due sandali il tuo vestito la tua vita non si rovinerà ma risorgerai secondo insegnamento la madonna vuole che siamo veramente dei sirenei e quindi quando vediamo un fratello che porta alla croce soccorrerlo questo è il secondo insegnamento terzo insegnamento non preoccuparci di pensare che dobbiamo fare tutto noi come diceva francesco noi siamo chiamati a fare il bene possibile in quella situazione il bene non tutto il bene che serve il bene possibile per noi e quando noi semineremo quei cinque panni e due pesci dio benedirà e moltiplicherà perché dio appunto apre i cuori ma apre pure i portafogli e avere tutto quello che deve aprire per poter aiutare i suoi figli allora oggi in questo settimo giorno di novena ispirati da queste parole vogliamo pregare per tutte le persone che nella nostra vita ci hanno fatto soffrire preghiamo anche per noi stessi perché a volte siamo anche noi le persone che ci infliggiamo certe sofferenze con le nostre scelte sbagliate per le nostre tebolezze per le nostre paure la preghiamo c'è proprio nel mentale c'è una messa la messa per coloro che ci fanno soffrire ecco preghiamo come per coloro che nella nostra vita ci possono aver fatto soffrire anche per la nostra persona questa è la prima intenzione di oggi la seconda preghiamo per tutte le persone che portano la croce e chiediamo che lo spirito santo scenda perché da oggi ognuno diventi buon samaritano dell'altro e chiediamo il dono che in ogni circostanza avremo sempre la grazia di fare tutto il bene possibile tutto quello che è possibile in quella circostanza chiediamo il dono che dio benedica i cinque panni due pesci che mi segneremo in tutte le circostanze e li moltiplichi tanto che poi le persone vadano via sazie proprio dell'amore di dio anzi con i cesti avanzati come dice la scrittura allora in questo settimo giorno di novena ecco proprio oggi doniamo tutto a dio doniamo tutto alla mamma celeste preghiamo proprio per le persone che ci hanno fatto soffrire preghiamo per essere buoni samaritani e cenei l'uno dell'altro e preghiamo perché abbiamo sempre la grazia di fare tutto il bene possibile in ogni circostanza e preghiamo anche per ringraziare di tutte le persone che nella nostra vita sono stati strumenti di aiuto strumenti proprio segno dell'amore di dio chiediamo che dio oggi chiediamo questa benedizione speciale il vangelo dice dio vi darà cento volte tanto ecco oggi preghiamo perché tutte le persone che nella nostra vita ci hanno aiutato siano benedette cento volte tanto e chiediamo anche che chi noi abbiamo aiutato possa invocare da dio la stessa benedizione per noi che dio ci benedica anche a noi cento volte tanto allora ecco benediciamoci proprio noi che facciamo tutti questa novena benediciamoci l'un l'altro affinché le benedizioni si moltiplicano sugli uni e sugli altri e diventi una lote meravigliosa per dio grazie dio che ci hai benedetti con ogni benedizione spirituale in cielo ci hai benedetti senza misura con lo spirito santo queste benedizioni che oggi faremo l'uno per l'altro sono importantissime e spezzeranno tanti mali tante maledizioni pensate che ve l'ho raccontato san francesco aveva il padre che lo malediva sempre ogni volta che lo incontrava per strada il padre malediva san francesco a un certo punto francesco che cosa ha fatto ha preso un povero se lo portava appresso e gli ha detto ogni volta che mi padre mi maledisce tu povero benedicimi ecco oggi benediciamoci gli uni gli altri perché le benedizioni che ci facciamo gli uni gli altri come fratelli e sorelle in cristo spezzino tutte le maledizioni che ci possono essere venute da nostro padre la nostra madre dai nostri fratelli e sorelle dalle persone estremamente a chiunque benediciamoci l'un l'altro affinché la benedizione di dio spezzi tutte le maledizioni e ci renda saldi solidi fortificati nella benedizione di dio affinché anche noi possiamo benedire sempre tutti anche come dice oggi la madonna coloro che ci hanno fatto soffrire amen alleluia adesso finiamo questo giorno così importante proprio consacrando tutto proprio alla madonna allora ecco con le preghiere finali vogliamo veramente e vogliamo veramente affidare al signore tutti oggi voglio affidare con queste preghiere ieri mi hanno segnalato diverse persone morte anche per covid vogliamo pregare che per per sergio per domenico preghiamo anche per un mio cugino un cugino di mia madre che ieri è morto marcello si chiama e per tutte le persone per cui mi hanno chiesto preghiere appunto perché defunte e preghiamo anche per quelle invece che hanno bisogno di guarigione gli consegniamo veramente tutto e in questo momento e consacriamo tutto proprio proprio al signore cuore immacolato di maria si il nostro aiuto la nostra guida la nostra compagnia contiamo sulla forza della madonna per combattere tutti i mali dell'anima e del corpo contiamo sulla forza della madonna per combattere tutti i mali dell'anima e del corpo contiamo sulla forza della madonna per combattere tutti i mali dell'anima e del corpo. Mamma dolcissima, ci consacriamo oggi al tuo cuore immacolato con l'ardente desiderio di lasciarti vivere, amare, operare in noi. Ti offriamo tutto noi stessi, il nostro essere e il nostro agire. Tu ama con tutto il nostro cuore. Pensa con la nostra mente, parla con la nostra bocca, prega nelle nostre preghiere, opera con le nostre mani, cammina con i nostri passi per portare nel mondo intero il tuo amore materno. Tutto è tuo mamma nostra, il tempo, il cuore, la mente, le gioie, le sofferenze, le preghiere. Oggi ti affidiamo ecco le persone che ci hanno fatto soffrire, tutto quello che ti abbiamo detto, i defunti, tutte le intenzioni di chi può fare questa novena. Tutto è tuo mamma. Ripeti tu in noi al Padre, ecco fa di noi tutto ciò che vuoi. Il nostro cuore è tuo, vogliamo fare la volontà tua. Amen, alleluia. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Vi benedica tutti quanti Dio Onipotente nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A tutti voi che ascoltate, vi chiedo una gentilezza. Fino all'otto giorno della festa vi chiedo di ricordare alcune mie intenzioni speciali e di ricordarle veramente, ecco, fino all'otto in particolare. Io nella Messa ricorderò tutti quanti voi. Pace e bene a tutti.